Il match di domenica a San Siro lo ha consacrato al grande pubblico. La standing ovation, tributata agli domenica sera nella scala del calcio, gli ha assicurato la convocazione, forse un posto da titolare, nella nazionale di Antonio Conte, impegnata nella doppia sfida di qualificazione Aero 2016 contro Azerbegian e Norvegia. Proprio sotto gli occhi del CT dell'Italia, Lorenzo Insigne ha incantato i quasi 80.000 spettatori che hanno potuto apprezzare il suo destro vellutato. L'assistenza di un ispiratissimo Higuain, unita al cambio di modulo, permette a Lorenzo di sprecare meno energie nella fase difensiva e sprigionare tutta la sua potenza negli ultimi 30 metri di campo. Intanto, dopo i quattro gol subiti in casa, il Milan riceve anche un'ammenda di 15.000 euro combinata dal giudice sportivo per i soliti cori antinapoletani partiti dagli spalti di San Siro.